Arosa Popovic sta cercando di riportarsi su Casagrande e Pantani mentre fatica in modo immane scusate, su Garzelli e Pantani mentre fatica in modo immane Francesco Casagrande ma mi volto indietro e vedo Andrea Noè ancora lì subito alla ruota di Julio Alberto Pérez Guapio dunque Andrea Noè non è restabile, pochi secondi in ritardo rispetto a Arosa Popovic mai vista una cosa del genere all'ultimo chilometro, mai vista, mai vista Garzelli e Pantani, sembrano fratelli in questa circostanza anche per la somiglianza che li contraddistingue 28 secondi aggiornamento sul vantaggio di Gilberto Simoni, ha guadagnato ancora il Trentino siamo ormai in vetta, siamo ormai in cima Pantani è terzo